Musica Abbiamo mangiato l'ultimo pane di Salome ieri. Maestro, dobbiamo andare a comprare del cibo. Possiamo usare l'oro che ci hanno donato. Molto bene. C'è una città a un miglia ovest. Sikar. Voi andate. Io resto qui. Dovrebbe restare qualcuno qui con te. Me la caverò. Vediamoci al pozzo quando tornate. Sì. 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 Mi daresti da bere? Mi hai sentito? Va proprio male, eh? Che cosa? Tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, una samaritana. Per di più donna. Ti chiedo scusa. Allora, dovevo dire per favore. Non è sicuro per te stare da solo qui. Neanche per te. Perché non vieni con le altre? E perché vieni così tardi? Le donne non vengono qui quando fa più fresco? Sì, beh... Nessuna vuole essere vista con me, quindi devo venire qui a mezzogiorno, come mi hai appena ricordato. E perché ti stanno lontane? È una lunga storia. Ecco, gradirei comunque avere un po' d'acqua, se puoi condividerla. È incredibile cosa può fare una gola arsa. Io non sono immonda per te. Non sarai contaminato dal mio otre. Forse alcuni del mio popolo dicono così delle vostre donne, ma io no. Ah, sì? E tu cosa dici? Dico che chissà chi sono chiede a me di dargli da bere. Davvero? E io gli darei l'acqua viva. Solo che non hai niente con cui attingere l'acqua, il pozzo è profondo. E poi, che cosa vuoi da me se hai già la tua scorta di acqua viva? È una lunga storia. E l'acqua giudea è più buona dell'acqua samaritana? Non è quello che ho detto. Sei migliore del nostro antenato Giacobbe, che scavò questo pozzo. La tua acqua è migliore della sua. Conosco bene, Giacobbe. E tutti coloro che bevono quest'acqua avranno di nuovo sete. Ma chi beve dall'acqua che io gli darò non sentirà mai più sete. Sarebbe fantastico. L'acqua che io darò diventerà in ogni persona una sorgente d'acqua per la vita eterna. Davvero? Sì, davvero. Provamelo. Prima chiama tuo marito e poi torna qui. Ve lo mostrerò. Io non ho un marito. Hai ragione. Hai avuto cinque mariti. E l'uomo con cui vivi ora non è tuo marito. Ora capisco. Tu sei un profeta. Vuoi farmi la predica? No. Di solito il lato positivo di venire qui da sola è evitare di sentirmi condannare. Non sono qui per condannarti. Ho commesso errori. Fin troppi. Ma sono quelli come te che mi rendono impossibile fare qualcosa per riparare. Come? I nostri antenati adoravano Dio su questo monte. Ma voi giudei dite che l'unico posto per adorare Dio è Gerusalemme. Lo dicono perché il Tempio si trova lì. Sì. Dove noi non possiamo entrare. Sono qui per infrangere quelle barriere. E verrà il tempo in cui né su questo monte né a Gerusalemme si pregherà il Signore. Quindi dove dovrei andare quando ho bisogno di Dio? Non ho mai ricevuto niente da Dio, ma non potrei ringraziarlo nemmeno se volessi. Ovunque. Dio è spirito. E il tempo verrà. Anzi, è già arrivato. Il tempo in cui non importa dove preghi, ma solo che lo preghi in spirito e verità. Cuore e mente. Ecco, ecco quale genere di fedele Dio sta cercando. Non importa da dove provieni o quello che hai fatto. Tu credi in ciò che ti dico? Finché non arriverà il Messia, che spiegherà tutto quanto e sistemerà ogni cosa, me compresa. Non mi fido di nessuno. Ti sbagli quando dici che non hai mai ricevuto niente da Dio. Il Messia di cui stai parlando sono io. Il primo si chiamava Ramin. Tu eri una donna pura, emozionata per il matrimonio. Cosa? Ma lui non era un brav'uomo. Ti ha fatto del male. Così hai perso fiducia nel matrimonio e nella pratica della fede. Smettila. Il secondo era Farzad. La notte di nozze la sua pelle sapeva di arance. E da quel giorno, ogni volta che vedi le arance al mercato, rimpiangi di averlo lasciato. Perché era l'unico uomo veramente pio con cui sei stata. Ma ti sentivi indegna. perché mi fai questo? Non mi sono ancora presentato pubblicamente come il Messia. Tu sei la prima. Sarebbe bello se mi credessi. Hai scelto la persona sbagliata. Sono venuto a Samaria solo per incontrarti. Tu pensi che sia un caso che io sia qui in pieno giorno? Sono stata rifiutata dagli altri. Lo so. Ma non lo sai dal Messia. E sai tutte queste cose perché sei davvero il Cristo. Vado a dirlo a tutti quanti. Mi raccomando, ci conto. Spirito è verità. Spirito è verità. Non importeranno montagne e templi. Presto. Solo il cuore. Me lo prometti. Te lo prometto. Quest'uomo mi ha detto tutto quello che ho fatto. È davvero lui, Cristo. Aspetta! La tua acqua! Hai dimenticato la tua... Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Maestro, abbiamo del cibo. Che cosa gradisci? Ho cibo da mangiare che non conoscete. Che ti ha dato il cibo? Aspetta un attimo. Glielo hai detto? E lei lo dirà agli altri. Quale cibo? Il mio cibo è fare la volontà di Dio e compiere la Sua opera. Tu le hai detto che sei? E significa che... Ti arresteremo qui un paio di giorni. Abbiamo seminato tempo fa, ma ora siamo pronti per il raccolto. Quindi è il momento. Andiamo. Allora... Allora...